Allora, sono qui in compagnia di colui che è l'artefice di questa serata, che è una serata straordinaria, Michele Miranda, titolare della ditta società Mi Group, che ha ormai in appalto da due anni o tre, è un lavoro molto impegnativo stasera, ma lo ho tutti i giorni, però stasera, io lo dico agli amici, non ho mai visto in tutta la mia vita tanta gente, è un record storico. Michele, complimenti a questa organizzazione, cosa vuoi dire anche al commento di questa straordinaria serata? Volevo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato e tutte le persone che sono state i protagonisti di questa serata. Esatto, vogliamo anche ricordare che c'è uno staff, ovviamente di militari, che è anche... Grazie anche allo staff dei militari riusciamo a fare tantissime cose, l'aiuto e l'ausilio da parte di tutti, soprattutto del nuovo vice direttore, che è molto presente relativamente a tenente Caprio, che è presente sempre, che vigila anche con lo staff di sicurezza, ma ripeto, io calcolo che avevo quattro anni quando venivo in questo posto, magari avessi avuto questa realtà di animazione che allieva anche complimenti all'animazione. Michele, sono contento di essere stato qua, io dovevo essere oggi a Torino perché c'era mia sorella che giocava la finale di tennis, per una serie di motivi non sono andato e quindi stasera non potevo mancare a questa serata, che ripeto, è una serata storica per lo stabilimento militare dell'esercito.